Signori, un attimo della vostra attenzione, grazie. Due minuti della vostra attenzione. È dal primo di giugno che faccio sto discorso. Lo ripeterò fino all'8 di dicembre, fino a quando monterò un albero di Natale in torrenta. Questa spiaggia è un regalo alla natura. Questa spiaggia ogni giorno ci accoglie a braccio aperte, ma è una spiaggia che merita rispetto. E come sempre mi rivolgo ai fumatori e alle fumatrici che abbandonano i mozziconi in spiaggia. Non sta bene, signori e signore. Non sta bene perché a casa vostra, nelle vostre quattro mura. Non fate così. E allora vi avvicinate dal sottoscritto che vi consegno i portaceneri e rispettiamo sta spiaggia. Buona giornata a tutti e vi ricordo che siamo in Sardegna!